Lo scandalo Petroli e di Tempa Rossa ha fatto emergere il vero motivo per il quale il Premier Renzi invita gli italiani a non andare a votare il 17 di aprile. In realtà il vero petrolio da difendere non è quello degli amici del Premier, non è quello dei parenti, dei ministri, ma il vero petrolio da difendere è il nostro mare, la nostra pesca, il nostro turismo, il nostro paesaggio, l'ambiente e la biodiversità. Per questi motivi il prossimo 17 aprile bisogna assolutamente andare a votare per il referendum, votare sì per dire un no secco alle trivelle.